Situazione di estrema incertezza per il personale precario del libero consorzio di egrigento. La CGL Funzione Pubblica ha inviato una nota al commissario straordinario Girolamo di Pisa e alla segretaria generale dell'Ente con la quale lamenta la poca attenzione da parte dei vertici dell'ex provincia sulla problematica che interessa i circa 130 dipendenti con contratto a tempo determinato attualmente in servizio. Il coordinatore provinciale Enti Locali Pietro Aquilino con la nota lamenta che nonostante la norma regionale e nazionale attualmente vigente agevoli il percorso della trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato del personale precario attualmente in servizio presso gli Enti Locali dopo le ripetute richieste di attivazione delle procedure di stabilizzazione avanzate dall'organizzazione sindacale durante lo svolgimento di precedenti incontri ufficiali con la parte pubblica e non ultima la nota del 14 novembre scorso con la quale è stato chiesto un apposito incontro per discutere sull'argomento non è mai stata avviata alcuna procedura in tal senso considerato che la data ultima per attivazione delle procedure è il 31 dicembre 2018 scrive Aquilino la funzione pubblica della CGL nell'interesse supremo di tutti i lavoratori coinvolti invita l'Ente a provvedere immediatamente alla stesura di tutti gli atti propedeutici all'avvio della procedura di trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato avvertendo che in mancanza di positivo riscontro entro i termini stabiliti per legge dalla ricezione della lettera l'organizzazione sindacale si riserva di attivare tutte le forme di lotta opportune per tutelare i diritti dei lavoratori dall'ex provincia nessuna replica in attesa che arrivi il commissario in sede e provveda a convocare la CGL iscriviti al nostro canale